Halloween a Mirabilandia è già arrivato. Fino al 1 novembre, tutti i fine settimana infatti, il popolare parco divertimenti più grande d'Italia, con i suoi 850.000 metri quadrati e 47 attrazioni, presenta l'Horror Zone, con ben 5 tunnel dell'orrore, ma anche tante novità per gli amanti del brivido, tra zombie in stile steampunk, personaggi del mondo delle fiabbe in chiave horror e mostruosi abitanti del West pronti a spaventare i passanti. Solo i più impavidi potranno affrontare infatti il nuovo tunnel dell'orrore, Iorona, ispirato a una favola horror dell'America Latina. Il brivido continua con gli altri tre tunnel dell'orrore, animati da inquietanti personaggi in carne e ossa. Acid Rain è uno spettarale, labirinto, post-apocalittico. Mortal Circus, un tunnel in cui i visitatori verranno sorpresi da terribili clown. Infine, Malabolgia è il tunnel ispirato all'inferno di Dante Alighieri. A Mirabilandia i festeggiamenti di Halloween sono pensati anche per le famiglie. Tra zucche, ragni e ragnatele, tanti spettacoli e intrattenimenti magici. I tre tunnel a tema, Smemorella e Leo, le streghe del bosco incantato e la novità il covo dei pipistrelli, immergeranno bambini e genitori nella magica atmosfera di Halloween. Il prossimo appuntamento con Mirabilandia sarà dall'8 dicembre. Infatti, per la prima volta, il Parco Divertimenti di Ravenna apre in occasione delle festività natalizie.